Tante persone hanno voluto dare l'ultimo saluto all'ex sindaco di Pescara, Carlo Pace, deceduto nella mattina di martedì scorso a causa dei traumi riportati il giorno precedente, quando l'ex primo cittadino era stato investito da un'automobilista in via Pellico. Cremita la chiesa di Sant'Antonio di Pescara, molti cittadini e diversi esponenti delle istituzioni presenti, dal presidente della regione D'Alfonso al sottosegretario Chiavaroli, il presidente della provincia di Pescara Di Marco e, tra gli altri, il sindaco di Pescara Alessandrini, di Chieti, di Primio, di Montesilvano, Maragno, l'ex rettore dell'università di Chieti-Pescara, Crescenti. La messa è stata celebrata dal parroco Don Nicola Petrone, il quale nel corso dell'omelia ha ricordato la figura di Carlo Pace. Politico serio e onesto, quando poteva, faceva del bene per la mensa dei poveri di Sant'Antonio e chiedeva sempre se c'era bisogno di qualcosa ai collaboratori, ha detto padre Nicola. Un cuore grande, quello del nostro fratello che oggi siamo qui a salutare. La morte non è l'ultima parola perché noi continuiamo ad esserci nella vita eterna. Al termine della messa la figlia Laura, anche a nome della madre Rossana e del fratello Bruno, ha voluto ricordare il papà.